Salute a tutti, sono Velia Tortora, fondatrice dell'Accademia Osteopatia Biocentrica e diatrice del metodo 3DBIOS. L'Accademia da dieci anni ha il piacere di divulgare una metodologia clinica evolutiva frutto di 30 anni di sperimentazione pratica, clinica e di laboratorio. A novembre l'Accademia riparte con lo step 1. La tecnica SOT di Dejernet evolve nel nostro innovativo metodo 3D Biocentric Osteopathic Synthesis, un approccio osteopatico che ha aiutato e aiuta tantissimi osteopati a leggere correttamente e a sostenere il paziente. In che modo? Numero 1, attraverso testi d'ingresso, diagnosi differenziale, lettura delle tre categorie, ovvero dei tre tipi di adattamento posturale rivisitate dal punto di vista di un osteopata. Inquadramento iniziale che permette di annullare il rischio di errore di valutazione che per noi è fondamentale. Numero 2, linea guida di trattamento, comprensione della disfunzione unitaria dell'asse centrale e dei sistemi fasciali maggiormente coinvolti, strutturale, viscerale, craniosacrale, interrelazionati sempre fra di loro. Numero 3, il trattamento è potenziato dall'uso dei cunei contestualizzato nell'ambito di un trattamento osteopatico che è definito biocentrico. Numero 4, scelta della tecnica adeguata, per quel caso clinico unico e irripetibile e per quella realtà biologica che è irriproducibile, dunque non protocollabile. Numero 5, strumenti di azione di verifica immediati. Non solo dunque un metodo, rigore scientifico e tecnicismo, ma il rispetto assoluto dei principi tradizionali dell'arte osteopatica contraddistingue la nostra formazione. Lo step 2 arricchisce il programma didattico grazie ai docenti che hanno abbracciato la mia visione. Jean-Marc Campigotto amplia le conoscenze acquisite del metodo proposto durante il primo step con le sue masterclass di integrazione e di sintesi viscerale. Vito Lombardo che propone ad ogni corso previsto la sua integrazione e interrelazione tra osteopatia e leggi biosistemiche. Tommaso Ruggiero si occuperà dell'assistenza durante il tirocinio clinico in aula. Questo viaggio fornisce le competenze necessarie per eccellere nella pratica osteopatica, aiuta a sostenere il paziente con una metodologia comprovata da anni di sperimentazione e di casistiche accumulate nel tempo, una sintesi che abbraccia tutti i campi di applicazione che questa meravigliosa arte osteopatica offre. Il percorso potenzia l'abilità palpatoria, la capacità intuitiva e l'interazione e la connessione dinamica con qualsiasi tipologia di paziente acuto cronico e di ogni età. Noi diamo anche la possibilità di far parte di una community di professionisti esperti del metodo 3DBIOS dedicata al confronto e quindi alla crescita. L'Accademia accoglie solo 20 iscritti, dunque noi amiamo formare dei piccoli gruppi di studio privati per assistere individualmente ed accompagnare ciascun partecipante durante il viaggio formativo. Io invito chiaramente tutti gli osteopati a partecipare al prossimo anno accademico 2024-2025. Le date del calendario didattico sono già pubblicate sulle pagine social e sul sito di Accademia Osteopatia Biocentrica. Noi docenti vi aspettiamo in aula e io vi ringrazio tantissimo per l'ascolto. Grazie, buona osteopatia a tutti.